Se volete avere sempre un pavimento aspirato e lavato a dovere con un semplice click, siete arrivati nel posto giusto. Oramai i robot aspirapolvere e lavapavimenti hanno raggiunto un livello di efficienza e praticità mai visto prima, grazie all'introduzione di sistemi all'avanguardia e all'intelligenza artificiale sempre più raffinata. In questa guida abbiamo posto il focus sui modelli più recenti disponibili su Amazon, in grado di offrire il massimo nella pulizia automatica del pavimento. Vi ricordo che per raggiungere tutte le offerte selezionate per i robot che vado a presentarvi, potete farlo comodamente dai link che trovate qui sotto in descrizione o nel primo commento. E se non siete ancora iscritti al nostro canale Telegram, vi consiglio di farlo subito. Ogni giorno condividiamo i migliori sconti di Amazon su moltissimi prodotti e categorie, e nei periodi di grandi offerte come ad esempio Prime Day e Black Friday, il nostro canale Telegram può diventare un punto di riferimento per il risparmio di tempo e denaro. Selezionando per voi le migliori offerte in ogni occasione. Puoi iscriverti ora scansionando il codice che vedi o cliccando sul link in descrizione. Partiamo con l'ultimo robot di casa ECOVAX. Il modello N30 Pro Omni offre una soluzione avanzata per la pulizia domestica a un costo più abbordabile rispetto ai top di gamma, pur offrendo soluzioni innovative e prestazioni di ottimo livello. Grazie alla stazione All-in-One è in grado di lavare automaticamente i panni con acqua calda a 60 gradi e svuotare lo sporco autonomamente, mentre la funzione di asciugatura ad aria calda a 40 gradi evita la formazione di odori sgradevoli, mantenendo il dispositivo igienico e pronto all'uso. Il robot non ha il suo serbatoio dell'acqua, utilizzando esclusivamente i panni umidi per il lavaggio, che saranno risciacquati con una frequenza e quantità d'acqua impostabile dall'applicazione. Integra anche un sistema per erogare in automatico un detersivo apposito venduto separatamente. Con una potenza di aspirazione di 10.000 Pa, il robot rimuove efficacemente sporco e detriti da vari tipi di superficie, inclusi i tappeti, riducendo al minimo l'aggrovigliamento di peli e capelli grazie alla tecnologia antigroviglio Zero Tangle 2.0. La tecnologia True Edge Adaptive Edge Mopping permette al robot di pulire bordi e angoli con precisione millimetrica, utilizzando un braccio sospeso e algoritmi avanzati, mentre il sistema automatico di sollevamento Mochi evita le contaminazioni sui tappeti. Il sistema di lavaggio rotante esegue una pressione costante sul pavimento e una rotazione ad alta velocità, ideale per rimuovere sia le macchie quotidiane sia quelle più ostinate. L'applicazione Ecovax Home consente di regolare le varie funzioni, gestire la mappa e i programmi di pulizia per ottimizzare al meglio il lavoro del robot. Inoltre le tecnologie True Detect e True Mapping permettono al robot di evitare ostacoli con precisione e mappare dettagliatamente la casa. È venduto all'ottimo prezzo di lancio di 699 euro. Se preferite la presenza di un serbatoio dell'acqua nel robot, in modo da poter gestire anche il flusso di acqua direttamente sul pavimento, vi propongo anche il modello T30 Pro Omni, sempre di Ecovax. Offre prestazioni generali superiori e in questo caso il panno di lavaggio dedicato a bordi e angoli è montato direttamente su un braccio meccanico che si estende in automatico all'occorrenza. Ha una stazione completa di tutte le funzioni automatiche di svuotamento sporco, rabbocco dell'acqua, lavaggio panni con acqua calda a 70 gradi e asciugatura finale con aria calda. La tecnologia Smart Rework, grazie a sensori altamente sensibili, permette alla stazione di rilevare con precisione il livello di contaminazione nei panni, adattando le strategie di pulizia in tempo reale. La potenza di aspirazione è di 11.000 Pa e include il sistema Zero Tangle per scongiurare l'attorcigliamento di peli e capelli. Solleva in automatico i panni quando incontra un tappeto e grazie alla tecnologia True Detect è in grado di riconoscere ed evitare vari tipi di oggetti sul pavimento. Da un prezzo consigliato di oltre 1.100 euro, si può trovare spesso scontato a un prezzo molto allettante. Trovate tutti i link per le offerte Amazon selezionate qui sotto in descrizione. La Eufy è un'azienda che si è ritagliata il suo spazio nel settore della pulizia domestica automatica, dando vita a prodotti dal buon rapporto qualità-prezzo, particolarmente orientati alla fascia economica. Ma con i suoi ultimi robot sembra voler competere direttamente con i big del settore. In particolare il recente modello X10 Pro Omni offre ottime prestazioni e soluzioni all'avanguardia ad un prezzo che senza sconti è di 799 euro. Con una forza aspirante massima di 8.000 Pa, la spazzola rotante multidirezionale con gomma e setole, è in grado di rimuovere efficacemente polvere, detriti e peli di animali anche dai tappeti. La spazzola a rullo autodistricante si libera dai grovigli ruotando in senso inverso ed eliminando peli e capelli accumulati senza bisogno di intervento manuale. Il sistema Mop Master 2.0, con una rotazione di 180 giri al minuto e una pressione al suolo di un chilogrammo, permette ai doppi panni lavapavimenti di eliminare anche le macchie ostinate. Quando viene rilevato un tappeto i panni umidi si sollevano automaticamente di 12 mm, evitando di bagnare le superfici non adatte. Non ha il braccio estensibile, ma attivando una funzione specifica il robot effettuerà un movimento ondulatorio lungo bordi e angoli, in modo da coprire anche la superficie che altrimenti rimarrebbe scoperta. La stazione All-in-One offre il risciacquo e lavaggio automatico per i panni lavapavimenti con acqua fredda e asciugatura finale ad aria calda, mantenendo i panni asciutti e privi di cattivi odori. La stazione integra anche lo svuotamento automatico dello sporco con sacchetto e il riempimento automatico del serbatoio dell'acqua nel robot. La tecnologia Smart AI-C permette al robot di evitare ostacoli identificando oltre 100 oggetti diversi, come fili, scarpe e giocattoli, anche di notte. La tecnologia Laser iPad traccia percorsi di pulizia efficienti e precisi. Inoltre, grazie all'applicazione dedicata, si può personalizzare il tipo di pulizia in base alle proprie esigenze, scegliendo impostazioni adatte a ogni ambiente, oltre alla possibilità di impostare confini virtuali e zone da evitare, personalizzando le aree di pulizia per adattarsi perfettamente alle esigenze della casa. Raggiungi facilmente l'offerta Amazon selezionata dal link qui sotto in descrizione. Il Freo Z Ultra è il nuovo robot aspirapolvere e lavapavimenti della Narval, in grado di portare l'efficienza della pulizia domestica a un nuovo livello grazie a tecnologie avanzate di intelligenza artificiale. Equipaggiato con doppi chip con intelligenza artificiale, è in grado di identificare e aggirare con precisione oltre 120 ostacoli, pianificando percorsi ottimali anche in ambienti complessi. Le doppie telecamere RGB ad alta definizione, supportate da algoritmi avanzati di intelligenza artificiale, permettono una visione dettagliata, paragonabile a quella umana, che garantisce un'evitazione precisa di oggetti fino a 8 mm. Questo robot è progettato per differenziare la pulizia fra modalità asciutta e umida in tempo reale. Rilevando la presenza di polvere o liquidi, può attivare la funzione di aspirazione o lavaggio in base al tipo di sporco. La potenza di aspirazione massima è di 12.000 Pascal e integra una spazzola zero grovigli di nuova generazione che ruota ad alta velocità, eliminando il rischio di accumuli di capelli e peli. I due panni di lavaggio ruotano a 180 giri al minuto e applicano 12 newton di pressione verso il basso, affrontando brillantemente anche macchie difficili. Il robot non ha un serbatoio dell'acqua integrato, ma utilizza l'acqua nella stazione per tornare regolarmente a risciacquare e bagnare i moci per poi riprendere da dove aveva lasciato. Non c'è il panno estensibile, ma può comunque coprire la superficie di lavaggio lungo bordi e angoli tramite un movimento ondulatorio. Inoltre, per la prima volta troviamo un accessorio per la rimozione della polvere dai battiscopa, con il semplice passaggio del robot lungo il perimetro della casa. La stazione integra lo svuotamento automatico dello sporco e il lavaggio panni con acqua calda fino a un massimo di 75 gradi Celsius, regolando la temperatura in automatico in base al livello di sporcizia rilevato. È presente la funzione di asciugatura finale con aria calda. E il sacchetto dello sporco integra un trattamento antibatterico con raggi ultravioletti, garantendo igiene e assenza di odori sgradevoli. Grazie all'app dedicata si possono gestire facilmente diverse funzioni di pulizia, mappare le stanze e creare una configurazione personalizzata, adattando il robot alle specifiche esigenze domestiche. Il Freo Z Ultra propone soluzioni innovative e all'avanguardia, combinate a una pulizia efficace del pavimento. Ha un prezzo di 949 euro senza sconti. Se siete interessati potete approfondire ed eventualmente acquistare questo nuovo robot della Narval, dal link che trovate qui sotto in descrizione o nel primo commento. Vediamo anche l'ultimo robot di Eureka, una azienda che nell'ultimo anno è stata in grado di stupire in questo settore, e il suo nuovo J15 Pro Ultra non è un'eccezione. Con un'elevata potenza massima di aspirazione di 16200 Pascal, è in grado di rimuovere efficacemente detriti, polvere e sporco ostinato, sia su tappeti che su pavimenti di vario tipo. L'esclusiva tecnologia Flexi Razor, dotata di lame anti-groviglio attive, è in grado di liberare all'istante la spazzola da peli e capelli attorcigliati, riducendo al minimo il rischio di accumuli di capelli sulla spazzola. Riconosce e differenzia lo sporco secco da quello umido, adattando la strategia di conseguenza. La funzione Scrub Extend assicura una pulizia approfondita di bordi e angoli, estendendo in automatico il panno di lavaggio e arrivando a coprire le aree difficili da raggiungere. I panni girano e applicano una pressione costante di 7 newton sul pavimento, anche durante l'estensione del panno. Grazie all'intelligenza artificiale IntelliView, questo robot riconosce e classifica oltre 150 tipi di oggetti, adattando automaticamente le strategie di pulizia e differenziando ostacoli fissi, persone e esseri viventi presenti nella stanza. La stazione di autopulizia e lavaggio è progettata per garantire la massima igiene. Il mocio viene lavato con acqua calda a 75 gradi celsius e asciugato con aria calda, mantenendo il robot sempre pronto all'uso. Il robot ha il suo serbatoio dell'acqua che viene riempito in automatico alla stazione. Il contenitore della polvere viene svuotato automaticamente all'interno di un sacchetto con un'elevata capienza di 3 litri. Inoltre è compatibile con assistenti vocali come Alexa e Google Assistant e offre una gestione completa tramite l'applicazione dedicata, la quale consente di personalizzare le modalità di pulizia, mappare le zone e monitorare il dispositivo a distanza, offrendo un'esperienza di pulizia su misura e sempre sotto controllo. Attualmente è venduto a un prezzo mediano che si attesta intorno ai 1000 euro. Mi raccomando non dimenticarti di iscriverti anche al nostro canale Telegram delle offerte, dove troverai sconti imperdibili per questi e tanti altri prodotti selezionati con cura in molte categorie. Scansiona il codice o clicca sul link in descrizione. Passiamo ora alla Dreamy, azienda leader che negli anni è stata capace di rivoluzionare questo settore, introducendo soluzioni innovative. Il suo recente robot L40 Ultra offre una pulizia profonda e intelligente per ogni ambiente domestico, adattandosi a tutte le esigenze di pulizia. Con una potenza di aspirazione di 11.000 Pa e 5 livelli di intensità selezionabili, è in grado di adattarsi a diverse superfici, garantendo risultati ottimali su pavimenti duri, tappeti e moquette. La spazzola rotante laterale SideReach estensibile e sollevabile permette di raggiungere facilmente nicchie, angoli e spazi intorno alle gambe di mobili, assicurando una pulizia completa in ogni dettaglio. I mop rotanti sono progettati per proteggere tappeti e moquette, sollevandosi automaticamente fino a 10,5 mm, evitando così il trasferimento di sporco umido. La tecnologia Tricut della spazzola principale riduce l'aggrovigliamento, eliminando la necessità di interventi manuali per districare i capelli o i peli. È dotato di tecnologie avanzate come Omni Dirt e Mop Extend Robo Swing, che rilevano lo sporco umido e ostinato per una pulizia mirata anche sotto i mobili e negli angoli più difficili da raggiungere, grazie al braccio che si estende in automatico quando è necessario. La stazione integra tutte le funzioni necessarie alla manutenzione automatica. I panni vengono lavati con acqua a 65 gradi e alla fine asciugati con aria calda. Inoltre riempie di acqua pulita il serbatoio del robot, dosa il detersivo e svuota in automatico il contenitore dello sporco. L'applicazione dedicata offre moltissime funzioni utili a gestire facilmente la pulizia, configurare zone vietate, regole per i tappeti, regolare la temperatura dell'acqua per il lavaggio panni e molto altro ancora, per adattarsi al tipo di sporco e alle preferenze dell'utente. Integrato con controllo vocale, il Dreamy L40 Ultra offre un'esperienza di pulizia automatizzata, efficiente e completamente personalizzabile. Questo ottimo robot aspirapolvere e lavapavimenti ha un prezzo attuale di 1180 euro circa e lo trovate al link qui sotto in descrizione. Rimaniamo ancora con Dreamy per presentarvi l'ultima novità. Il modello X40 Master, che introduce una stazione super compatta con un'altezza di soli 28 centimetri, trasformandosi all'occorrenza in un vero e proprio elettrodomestico da incasso, grazie all'assenza di serbatoi per acqua pulita e sporca. Infatti questo robot si collega direttamente all'impianto idraulico, permettendo il riempimento di acqua pulita e lo scarico dell'acqua sporca senza intervento manuale. Un cassetto estraibile contiene un filtro per raccogliere i detriti dell'acqua sporca, un dispenser automatico per il detersivo e il sacchetto dello sporco. Oltre a questo offre tutte le funzioni di manutenzione automatica. È dotata di un esclusivo sistema che combina una lavatrice autopulente all'acqua calda fino a 70 gradi, per lavare i moci e il vassoio in profondità. L'asciugatura ad aria calda finale elimina tutta l'umidità scongiurando i cattivi odori. Lo svuotamento automatico del cassetto dello sporco e il riempimento d'acqua pulita nel serbatoio del robot completano le funzioni della stazione. Con una potenza di aspirazione di 12.000 pascal è progettato per eliminare in modo rapido e preciso detriti, polvere e peli da diverse superfici, assicurando una pulizia accurata. La spazzola laterale si estende in automatico, permettendo di rimuovere lo sporco nascosto sotto mobili, lungo i bordi e negli angoli più difficili. La tecnologia Mop Extend Robo Swing estende il panno di lavaggio quando necessario, coprendo bordi e angoli con estrema efficacia. Le spazzole del robot sono progettate per sollevarsi quando necessario. La spazzola centrale, realizzata interamente in gomma, si alza di 5 mm, quella laterale di 4 mm, mentre i panni si sollevano di 10,5 mm per proteggere tappeti e altre superfici, evitando trasferimenti indesiderati di sporco umido o secco. La tecnologia Omni Dirt Detection garantisce una pulizia altamente precisa grazie alla combinazione di rilevamento colori, telecamera RGB e rilevamento intelligente dello sporco. Questo sistema consente al robot di adattarsi ai diversi tipi di sporco in automatico, trattando più volte i punti più sporchi. È dotato di un sistema di riconoscimento intelligente e luce strutturata tridimensionale, che permette di identificare ed evitare fino a 120 tipi di oggetti, inclusi scarpe e cavi, per una pulizia precisa e senza interruzioni. Grazie a un LED integrato, il robot assicura una pulizia efficiente anche in ambienti scarsamente illuminati o bui, garantendo risultati ottimali in qualsiasi condizione di luce. L'applicazione dedicata offre tutte le funzioni necessarie per la gestione della mappa e della pulizia personalizzata. Inoltre è compatibile con assistenti vocali Alexa, Siri e Google Home. Questo magnifico robot è venduto al prezzo consigliato di 1699 euro. Se non siete interessati alla stazione compatta da incasso, il modello X40 Ultra Complete offre le medesime funzioni, ma con una stazione più classica che si sviluppa soprattutto in altezza, contenendo i serbatoi per acqua pulita e acqua sporca. Attraverso un kit acquistabile a parte, è possibile connettere direttamente alla rete idrica anche questo modello. In questo caso abbiamo un prezzo di 1499 euro. Vi ricordo che qui sotto in descrizione trovate tutti i link per le offerte Amazon selezionate. Non potevo non parlarvi anche del JetBot Combo, l'ultimo robot aspirapolvere e lavapavimenti di Samsung, che introduce funzioni di ultima generazione combinate a un'intelligenza artificiale avanzata. Dotato di tecnologia Object Recognition, riconosce persone, animali e oggetti a partire da un solo centimetro, grazie al sensore tridimensionale attivo, garantendo un'esperienza di pulizia sicura e intelligente. L'integrazione del sistema di monitoraggio per animali domestici permette di controllare in tempo reale cosa accade a casa attraverso l'applicazione, rendendolo perfetto per chi ha animali. La stazione Clean Station Steam Plus fornisce un sistema di sanificazione avanzato, con svuotamento automatico della polvere, lavaggio panni con acqua calda e asciugatura finale ad aria calda, eliminando il 99,9% di batteri. Il serbatoio dell'acqua nel robot si riempie automaticamente mantenendo sempre il livello d'acqua adeguato. Il sistema Carpet Care permette al robot di adattarsi in base alla tipologia di tappeto, sollevando i panni su tappeti a pelo corto per evitare di bagnarli o ritornando alla base per tappeti a pelo lungo, riponendo i panni e procedendo con l'aspirazione. La mappatura virtuale tridimensionale crea una planimetria dettagliata della casa, che include elettrodomestici e mobili, visibile nell'applicazione dedicata per un controllo completo e intuitivo. Il Samsung JetBot Combo con intelligenza artificiale rappresenta una soluzione sofisticata e completa per chi desidera una pulizia intelligente e personalizzabile, con massima efficienza e igiene. Il prezzo pieno per questo robot è di 1599 euro. L'ultimo robot aspirapolvere e lavapavimenti che vi propongo è il Roborock Q Revo Curve, un recente dispositivo di alta gamma progettato per offrire una pulizia completa e senza interruzioni, grazie a un sistema avanzato per districare peli e capelli, e una potenza di aspirazione senza pari di 18500 Pascal. La spazzola principale integra il sistema Duo Divid, che comprende due parti divise in grado di gestire capelli e peli di animali, trascinandoli naturalmente verso la bocca di aspirazione, evitando aggrovigliamenti, l'ideale per ambienti con animali domestici. Grazie alla tecnologia Flexi Arm, sia la spazzola laterale che il panno di lavaggio si estendono automaticamente all'occorrenza, per coprire bordi, angoli e punti difficili con estrema efficacia. La sua struttura Adaptilift è probabilmente l'innovazione più sbalorditiva introdotta in un robot nel corso di quest'anno. Questo sistema consente all'intero telaio di sollevarsi di 10 mm o solo determinate parti di esso, grazie anche a ruote indipendenti, per affrontare agevolmente dislivelli fino a 4 cm e garantire un'efficace pulizia anche su tappeti a pelo medio-lungo. In pratica il Roborock Q RevoCarve può superare ostacoli che generalmente costringono altri robot a tornare indietro. Progettato per una pulizia igienica e profonda, utilizza un sistema di lavaggio panni con acqua calda a 75 gradi, assicurando la massima igiene e l'eliminazione del 99,99% di batteri. Riconosce i livelli di sporco adattando il lavaggio panni di conseguenza e adottando in modo autonomo strategie di pulizia ideali. Alla fine esegue l'asciugatura con aria calda, integra lo svuotamento automatico dello sporco e il rabbocco dell'acqua pulita nel serbatoio del robot. Grazie alla luce strutturata e a una telecamera RGB, è in grado di riconoscere ostacoli di vario genere, evitandoli con estrema accuratezza, sia in ambienti luminosi che bui. Identifica i nostri animali domestici e può cercarli nella casa. Dalla telecamera del robot possiamo controllare l'ambiente ed effettuare una sorta di videochiamata per comunicare con animali o persone presenti. L'applicazione offre molte possibilità ed è funzionante anche con dispositivi come Apple Watch. È compatibile con Alexa e integra l'assistente vocale di Roborock, che offre una gestione semplice e versatile per attivare, regolare o dirigere il robot in qualsiasi zona della casa con la sola voce, anche senza la necessità di wifi o di dispositivi mobili. Il Roborock Q RevoCurve unisce potenza, innovazione e versatilità per garantire una pulizia completa e adattabile a ogni esigenza. Il costo attuale di vendita è di 1499 euro. Mi raccomando, vi ricordo che per raggiungere tutte le offerte selezionate per questi magnifici robot, potete farlo comodamente dai link che trovate proprio qui sotto nella descrizione del video o nel primo commento. E se non siete ancora iscritti al nostro canale Telegram, vi consiglio di farlo subito. Ogni giorno condividiamo i migliori sconti di Amazon su moltissimi prodotti e categorie e nei periodi di grandi offerte come ad esempio Prime Day e Black Friday, il nostro canale Telegram può diventare un punto di riferimento per il risparmio di tempo e denaro, selezionando per voi le migliori offerte in ogni occasione. Puoi iscriverti ora scansionando il codice che vedi o cliccando sul link in descrizione.